Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video unboxing sempre da Vinted e in questo caso un pacco spedito da mio amico Davide dovrei contenere il volume 3 di Yokohama Kaida Shikiko che come sapete lo sto comprando in francese perché go and merda e non gli voglio mica dare, a parte che non esisteva quando ho iniziato a comprare in francese, in italiano e non esiste ancora e probabilmente non esisterà mai perché non arriverà in ritardo come tutte le cose go and però non me la sento di dare i soldi a quegli stronzi napoletani e qua abbiamo, ecco, ecco, ma che bello è questo cos'è? ah interessante ecco qua, c'è anche qualcos'altro ho visto una cosa sotto però prima, qua c'è il 3, quello che ho comprato questo è interessante è Maria Antonietta, la gioventù di una regina di Fuyumisorio vabbè, vaffanculo, lo faccio serio sto video questo è interessante, questo non lo sapevo dove esserci, quello sì questo no e questo lo stavo per comprare qualche settimana fa ma perché dove lavoro io c'era questo ma qualcuno ce l'ha inculato e non so grazie così non devo più cercarlo io lo stavo letteralmente per comprare e me lo sono visto soffiare dalle mani maledetti, grazie, cazzo bello tra l'altro non ho neanche avuto occasione di vedere bene l'edizione e bella tra l'altro non so di che anno sia dovrebbe essere relativamente recente 2018 vabbè, della Sorio Sorio dea scesa in terra devo recuperare Cesare che si è appena concluso questa settimana ecco e qua ma tre così adesso posso... mi mancava solo questo perché... motivi conosciuti a me e a mio amico Davide e così posso leggere i primi otto adesso in Francia mi sa che sono fermi da un po' mi mancano ancora sei numeri però vabbè qua c'è il pezzo grosso che volevo per cui volevo fare la scenata stupidotta per non toccare la scenata ah Kajimunogatai di Shizumiiga questo volume tanto discursissimo bla 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 di cui tutti parlano e che finalmente poi io e posso leggerlo grazie ancora ecco cioè il video finalmente si finisce si termina qua sono molto curioso di leggerlo quindi questa edizione di visual che come al solito è bella dura well interesting queste cose forse è meglio non mostrarle ecco grazie grazie grazie